Abbiamo avuto il culo di nascere nel più bel paese del mondo, è ufficiale, 56 patrimoni dell'UNESCO primi al mondo, il 70% di tutta l'arte antica della terra, la più grande biodiversità agroalimentare che esista al mondo, grazie a un abbinamento tra una posizione geografica perfetta, latitudini e longitudini all'interno di un mare chiuso buono e il know-how, il background delle generazioni prima di noi. Poi noi 82 generazioni fa, coi romani, inventammo l'agricoltura da zero, ma abbiamo inventato l'agricoltura moderna, l'arato, il metri di trebbia, il mulino, perfino l'irrigazione automatica grazie a questi acquedotti straordinari che facevano.